La gente credente preferirebbe avere il vaiolo piuttosto che la vaccinazione perché quest'ultima semina il seme della sifilide, dei tumori, dell'escema, dell'erisipela, della scrofola, della tisi, persino della lebra e di tante altre affezioni ripugnanti Perciò la pratica della vaccinazione è un delitto, un oltraggio e un'illusione 1929, Età dell'Oro, primo maggio, pagina 502 Come al solito mi dirà qualcuno, tu fai l'archeologia della letteratura della Torre di Guardia ma forse perché nel 1929 non era il canale scelto già diversi anni prima da Dio per portare il cibo in tempo opportuno ai fedeli 1921, la vaccinazione non ha mai impedito nulla e mai lo farà della pratica più barbara siamo negli ultimi giorni, allora 1921 siamo negli ultimi giorni, il diavolo sta lentamente perdendo la sua presa facendo intanto uno streno sforzo per fare tutto il danno che può e al suo credito può essere attribuito a tali mali, e quali sono i mali del vaccino usa i tuoi diritti di cittadini americani per abolire cittadino americano per abolire per sempre la pratica diabolica delle vaccinazioni Orbene dall'ultimo aggiornamento del Corpo Direttivo, il numero 9 del 2021 dalle labbra proprio di questo membro del Corpo Direttivo ascoltiamo quello che vi sto per riferire leggendo dal testo vogliamo soffermarci sulla bontà di Geova e sul modo in cui sta guidando il suo popolo è Geova che sta guidando il suo popolo, ora sappiamo che Geova ha a cuore il nostro benessere spirituale, ma cosa possiamo dire di quello fisico, della nostra salute? si interessa anche di questo? e se lo fa non si accerterà che riceviamo buoni consigli anche riguardo alla salute? durante questa pandemia, sono io che sto leggendo, non è la voce durante questa pandemia, in molti paesi le persone non riuscivano a mettersi d'accordo c'è stata parecchia confusione, alcuni non digeriscono proprio l'idea di indossare una mascherina e si rifiutano di rispettare il distanziamento sociale anche quando queste misure sono obbligatorie ci vengono in mente le parole di Paolo, riportate in 1 Corinti 14,33 ve le ricordate? Dio non è un Dio di disordine ma di pace non è un Dio di disordine ma di pace, non è un Dio di confusione ma di pace dice la Bibbia, il disordine che vediamo in questo mondo è una chiara prova che dietro questi atteggiamenti non c'è Geova invece la nostra organizzazione ci ha dato indicazioni chiare sin dall'inizio dall'inizio della pandemia forse ma non certo dall'inizio della sua storia dottrinale e da chi provenivano queste altre indicazioni? andiamo sempre a fare ancora un po' di archeologia evita le inoculazioni e le vaccinazioni di siero poiché inquinano il flusso sanguigno con il loro sporco pus età del loro a 1929 la vaccinazione è una violazione diretta dell'alleanza eterna che Dio fece con Noè dopo il diluvio di tutte le invenzioni che sono state imposte all'umanità per la loro contaminazione la più sottilmente diabolica è quella della vaccinazione ma sempre questo membro del corpo direttivo invece dice pensate che Geova avrebbe permesso al corpo direttivo e agli assistenti e ai missionari alla stragrande maggioranza dei bioteliti ed altri servitori speciali di seguire certi protocolli se tutto questo fosse stato dannoso per la loro salute allora se queste affermazioni provengono dalla stessa fonte una delle due torri di guardia una delle due voci che parlano per la torre di guardia è falsa una delle due riviste in questo caso un broadcasting e l'altra una rivista è falso non possono essere tutte e due vere queste affermazioni quelle che parlano contro i vaccini e quelle che parlano a favore dei vaccini ma non stiamo parlando di una persona stiamo parlando di chi pretende di essere il canale portavoce di Dio sulla Terra, l'unico allora quale garanzia mi dai che il tuo Dio non sia un Dio di confusione che il tuo Dio non sia un Dio di disordine qual è la garanzia che mi puoi offrire? certo, nessuno va a leggere come al solito le riviste vecchie ma ripeto, quello cos'era? cibo scartato? cibo da scartare? cibo avariato? cibo ancora crudo? che tipo di cibo spirituale era? abbiate pazienza cioè voglio dire cibo spirituale è questo del broadcasting cibo spirituale è anche quello sbagliavano i testimoni di Giova dell'epoca a fidarsi? se Giova è lo stesso allora come mai ha permesso al corpo di dettivo i testimoni di astenersi loro stessi e di comandare a tutti gli altri fratelli di evitare le vaccinazioni degli alimenti cosa che era dannosissima per la salute? non mi rispondete con la conoscenza medica ha fatto dei progressi allora i fratelli non lo sapevano perché Giova la medicina l'ha creato e lo sapeva bene già da allora qual era la verità? io da questa letteratura evinco solo confusione